La Toscana vuole fare la sua parte nella lotta ai cambiamenti climatici, per questo si è svolta a Firenze la prima riunione del Comitato Scientifico per la Strategia Toscana Carbon Neutral 2050, di cui fanno parte tra gli altri, oltre al presidente della Regione Enrico Rossi, il neurobiologo Stefano Mancuso e il climatologo Roberto Buizza, l'economista Marco Frey, l'ex ministro dell'Ambiente Edo Ronchi e i docenti Romano Giglioli e Alessandro Sbrana. Obiettivo del Comitato? Affiancare la Regione per tagliare il traguardo dell'azzeramento delle emissioni inquinanti e dannose per il clima. C'è anzitutto il lavoro che la Toscana ha già iniziato da tempo. Ci sono anche fondi del piano operativo regionale che dovrò presentare in consiglio entro l'anno che devono essere indirizzati nella lotta ai cambiamenti climatici. Noi pensiamo di introdurre una condizionalità per erogare nuovi finanziamenti europei che sia legata alla riduzione del delle emissioni che alterano il clima e per fare tutto questo vogliamo avvalerci dell'apporto di scienziati e di tecnici che diano il loro contributo fattivo. Primo passo concordato dal Comitato Toscana Carbon Neutral la raccolta dei dati sulle emissioni sia nel campo dell'industria che del trasporto che dell'agricoltura. Una volta ottenuta una stima precisa si devono porre degli obiettivi. Devono essere chiari e raggiungibili quindi ad esempio un target annuale che dica che si cercherà di ridurre le emissioni di gas climalteranti di una certa percentuale ogni anno in modo che si riescano a raggiungere gli obiettivi di Toscana Carbon Neutral nel 2030, nel 2035, quello che sarà. Entro la fine della legislatura, detto Rossi, sarà pronto un documento prodotto dal lavoro del Comitato.